Si svolta regolarmente la seconda prova di sollevamento completo delle 78 digue mobili del Mose della Laguna di Venezia. Le operazioni si sono svolte alle quattro schiere di paratoie alle tre bocche di porto, Lido San Nicolò e Treporti, Malamocco, Chioggia, dalle 6.30 del mattino fino alle 14.30, orari in cui le capitanerie di porto di Venezia e Chioggia hanno interdetto la navigazione. Si è trattato del secondo sollevamento dopo la prova generale del 10 luglio scorso e tenutasi alla presenza del Premier Giuseppe Conte. Nuovi test sono previsti per il mese di settembre.